Benvenuti, benvenuti a Dietro la Notizia, il nostro approfondimento giornalistico di Gazerta Sera. Oggi affronteremo un argomento importante, spesso trascurato dalle stesse istituzioni. Parleremo di disabilità, parleremo di storie, ci faremo raccontare qualche storia e ovviamente ne parleremo con tre ospiti che sono già pronti seduti per rispondere. Sigla! Grazie a tutti. dell'associazione Luce negli occhi di Gioia Sannitica, benvenuta. Buonasera. Allora, prima domanda la farei a Preziosi. Un po' la storia, chi è il familiare colpito da questa disabilità? Il familiare è mio figlio, Umberto, che oggi è 50enne, da 30 anni vive in una situazione di disagio psittico e psichiatrico, però ha recuperato praticamente, si è riaffacciato alla vita e per il dopo di noi in questa zona purtroppo ancora siamo lottanti. Qual è stato il motivo, la causa scatenante? Tornando a casa dopo il lavoro, un incidente stradale ricoverato in provincia di Treviso, il coma, la rianimazione, ha prodotto un disurbo di personalità borderline che poi ha recuperato nel tempo. Purtroppo la società non si fa carico di questi recuperi e è stato abbandonato a casa. E oggi, nonostante ciò, io ho creato un'associazione familiare di disagiati psittici ormai da 20 anni, proprio perché mentre al nord è stato assistito, curato, diciamo, aveva tutta una possibilità di inserimento sociale, il dopo di noi, qui nel sud ha trovato praticamente un muro imbattibile, nonostante ognuno di noi cerca di fare qualcosa per l'inserimento sociale. Come sta ora? Ora sta bene, è in cura con il Dipartimento di Salute Mentale di Pietiponte Matese, però avendo perso il lavoro, gli amici, la fidanzata, vive in casa, nonostante uno lo presta per uscire, dice che esco. Qual è stata la difficoltà, diciamo, iniziale, più grande? Ma la difficoltà iniziale è stata, mentre al nord era stato preparato a reinserirsi nella vita, arrivato qui al sud, tutte le istituzioni, le strutture che nonostante che esistano e cercano di fare qualcosa, lo hanno abbandonato, vive in casa, praticamente, è relegato nella sua casa, quelle stesse case e famiglie che una letteratura antipsichiatrica definisce come autentiche fucine della follia, perché noi non siamo in grado di curare queste persone. Purtroppo, nel sud specialmente, tenga presente che si sono inventate una cosa pazzesca, hanno creato una struttura riabilitativa dove? In un ospedale. Quindi, quale inserimento sociale può avere una persona psichiatrica che si riprende e esce fuori e sta in un ospedale? Qual è la cosa che chiedi adesso in particolare? Forse molte cose, ma una in particolare. Molte cose, ma una sola, che il dopo di noi non sia solamente una, diciamo, una parola, ma sia una realtà, perché il problema grosso è proprio questo, il dopo di noi. Ne parliamo dopo di questa. Perfetto. Ne parleremo, altrimenti ci cruciamo un po' con le domande. Invece, Antonio la vive direttamente, dicevo, questa... Quanto è iniziato tutto? No, vabbè, la mia vicenda parveniale nascerà sempre, perché per me è una disabilità che nasce dalla nascita, e quindi ho vissuto sempre con la mia disabilità. Ho cercato sempre di conviverci, più che viverci, di conviverci. Io non vedo la disabilità per quanto mi riguarda come una patologia, ma sempre con una difficoltà di inserimento sociale, nel senso che un disabile, non parlo della mia persona, deve essere visto non come, o c'è un approccio, diciamo, pietistico, né un approccio di superuomo. Un disabile è una persona normale, con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti caratteriali e con tutte le sue abilità. E quindi questo è il discorso che bisogna portare avanti in tutti i settori, cioè vivere, diciamo, adeguare la società a quelle che sono le difficoltà fisiche, che poi non sono soltanto, possono essere barriere, diciamo, architettoniche, fisiche, ma anche barriere, diciamo, di approccio, barriere mentali o barriere, diciamo, di natura sociale e anche economica. Antonio, qual è il problema che maggiormente tu avverti, il disagio? Il problema, io naturalmente, quando, avendo, sono oltre 50 anni, quindi vivo la disabilità da oltre 50 anni, ho potuto, per vari mie vicissitudini, anche personali, vivendo su di me la disabilità, devo dire che ho vissuto anche una diversità di approccio, rispetto a quando io ero alunno all'elementare, ad esempio, adesso è cambiato il mondo. Io, quando stavo alle scuole elementari, andavo in bagno perché la bidella aveva questo compito preso così artigianalmente, non c'era nessuna assistenza prevista dalla legge. La difficoltà non sono le normative. Le normative in Italia, come in Europa, sono amplissime. Bisogna applicarle. Quindi ho potuto vedere, con tutte le difficoltà che prima anche il signor Preziosi ha elencato, però ho potuto vedere che c'è stato comunque un progresso. bisogna dare quella cosa in più, come l'ultimo scatto, l'ultimo miglio, per arrivare a una soluzione. Antonio, nella nostra zona, con molti comuni, c'è un ambito, no? Sì, l'ambito... Spieghiamo brevemente. Allora, le politiche sociali, quindi anche la disabilità, viene gestita a livello regionale in base a una vecchia legge del 2000-328 che ha diviso il territorio regionale in ambiti sociali. Quanti sono i comuni? Il comune di Pierimonte è il comune capofila dell'ambito C4 che racchiude 31 comuni, più o meno, rientranno nel distritto sanitario. Allora, signora Riccitelli, qual è la storia? Cioè, lei, qual è la storia che vive un suo familiare, mi pare, no? Sì, la nostra storia è una storia particolare. Antonio diceva, lui è un disabile purtroppo di nascita, invece la nostra storia è diversa. Mio figlio era un bambino perfettamente sano fino a tre anni. dico era, perché purtroppo la notte del suo terzo compleanno, dopo una serie di arresti cardiaci, una nossia cerebrale, Giovanni adesso ha una gravissima disabilità causata la nossia cerebrale, ma ancora prima dalla sindrome, che è una sindrome di cuttilungo e a monte Timothy 2 killer. Qual è il disturbo? Tanto per far capire a chi ci ascolta. Qual è il disturbo che lui avverte? Noi ho una tetraparisi spastico distonico, praticamente ha problemi agli arti. Agli arti, non muove... No, ma prima ancora, cognitivamente, è un bambino presente. Quando è successo non vedeva nemmeno più e diciamo che ci hanno detto tutte le peggiori cose che si possono sentire dire da un genitore. Quando fa è successo questo? Era il 3 novembre del 2017, sono sei anni, abbiamo appena compiuto sei anni. Lei, abbiamo detto prima, annunciando gli ospiti, ha un'associazione. Sì, abbiamo scelto... Qual è il ruolo esatto di questa sua associazione? Noi siamo un'associazione che cerca di accogliere le famiglie, ma il progetto il più grande è l'inclusione. L'inclusione è una parola che viene utilizzata continuamente, poi bisogna vedere le sfaccettature, quello che uno ci vuole dare in realtà come significato. Noi abbracciamo la famiglia in toto, praticamente chiediamo per conoscenza e poi adesso abbiamo un protocollo interno fatto dai nostri specialisti. Abbiamo accolto la famiglia per intero, quindi non seguiamo solo il bambino, ma tutta la famiglia. Cerchiamo di dare un supporto psicologico, materiale, sanitario, ma il progetto particolare è quello che facciamo con i bambini. Facciamo delle attività mirate in base alle particolarità dei bambini che accogliamo per la famiglia. Esattamente dove si trova? A Gioia Sannitica. A Gioia Sannitica abbiamo la sede principale che è casa mia. Poi in questo momento abbiamo anche la scuola di Carattano e puntiamo a qualcosa di grande, ma senza dircelo ancora. Come sta adesso il suo figlio? Mio figlio, ecco, io ho fatto ritardo perché non stava bene. Durante l'inverno è un macello perché è un bambino fragile, nel senso che oltre ai problemi motori, ai due problemi respiratori, è un bambino già allergico di fondo. Anche quando stava bene era allergico. So che lei, insomma, si dà molto da fare. So che addirittura è arrivato al Presidente della Repubblica. Quando nemmo fa il successo, che cosa vi siete detti? Grazie alla FISH abbiamo... Diciamo che cos'è la FISH? La FISH, la Federazione Italiana. La Federazione Italiana per il Seguramento dell'Handicap. Lo sappiamo tutti, ne facciamo tutti parte praticamente. C'è una cosa pure io, quindi. Ne facciamo tutti parte. Grazie alla FISH abbiamo avuto questo invito per andare alla parte conclusiva dell'attività, del sociale del Presidente Mattarella. Alla sua tenuta, che è sterporziale, si è tenuto questo parte stupendo, nel quale si è avuto la possibilità di vederci, di conoscerci tra le associazioni e non solo, anche le istituzioni, i carabinieri. C'erano un paraguadissimo, è stato bellissimo. Abbiamo avuto la possibilità di avvicinare il Presidente e salutarlo. Noi abbiamo portato anche dei legali, ma più che altro quello che mi interessa è la lettera. Lui vi ha scritto una lettera, voi avete scritto una lettera. Io ho scritto una lettera per il Presidente. Non vi leggerò perché l'esclusiva la diamo alla nostra cena di beneficenza, perdonami, ma ovviamente ci tengo particolarmente. Però vi dico un punto, praticamente racconto la storia di Giovanni. Io sto scrivendo un libro, ma in realtà questo è molto particolare perché l'ho scritto in prima persona, faccio parlare Giovanni. Poi interveniamo noi genitori perché abbiamo fondato l'associazione e che cosa vogliamo fare nella nostra associazione e concludiamo con il deficit del nostro ambito, del nostro distretto. Da febbraio siamo senza neuropsichiatri e per noi famiglie, per mia associazione, per me che lotto, senza il neuropsichiatra, veramente siamo in una condizione grave. Abbiamo avuto una telefonata e interrompo qua. Poi continuo al breve. Si ferma il racconto. Adesso, giusto per la conclusione, vogliamo spiegare che cos'è la legge 112 e qual è il nome, dopo di noi. Sì, diciamo la legge, dopo di noi, la legge 112 del 2016, cioè si è visto come ci sono i due casi qui presenti, che il problema principale molte volte dei disabili è il problema di quando finisce naturalmente l'approccio familiare, che è quello più importante, che crea maggiore inclusione, maggiore attività di supporto a quelle che sono le attività istituzionali. Quindi molte volte i genitori e i familiari sono preoccupati di quello che avverrà dopo. La legge prevede una serie di fondi, previsti anche in Regione Campania, per prevedere la destituzionalizzazione del disabile, allontanandolo, non diciamo nell'approccio positivo alla famiglia, cercando di vedere quale che sono più le sue abilità e le sue capacità di convivere anche insieme ad altri, facendo dei gruppi appartamento, cioè facendo aumentare quella che è l'autonomia del disabile. Per vedere, oltre che poi ci sono anche delle agevolazioni di carattere fiscale, non mi dirungo questo, che prevedono la possibilità di donare senza pagare imposte a fondazioni che si occupano poi del disabile, è un fatto più specifico. Però la ragione di questa legge sta appunto a creare un accompagnamento del disabile provvedendo sia l'allontanamento positivo dalla famiglia e creando quanto più autonomia possibile, però non portandolo semplicemente in un istituto, in un centro, ma creando un rapporto di collaborazione e di convivenza con altri soggetti che vivono la stessa, quasi familiare. Prezioso, un intervento sul 112. Io mi intervento diciamo che è un fatto negativo. Perché parlavo prima che al nord funziona tutto e al sud invece ci sono questi muri? Perché con la chiusura dei manicomi e delle strutture psichiatriche si era previsto tutta una serie di interventi, cioè parlare di una serie, una struttura intermedia riabilitativa, dove il soggetto, non il paziente, perché la malattia psichiatrica è una malattia come tutte le altre, che se è curata la gente vive bene, dovrebbe stare tre mesi lì. In questi tre mesi avrebbero dovuto trovare la possibilità di fare vivere da solo questo soggetto in modo da essere integrato nella società e recuperarlo anche a livello lavorativo. Da noi questo non succede, perché abbiamo chiuso i manicomi, salve grazie al grande Basaglia, finalmente, la legge Basaglia, la 180, e abbiamo aperto i cronicari, qui nel sud specialmente, al nord funziona, vi assicuro che funziona. Qui mio figlio, che è un esperto in informatica, robotica, diplomato, vienno di ingegneria elettrotecnica, non trova un lavoro, perché nessuno lo fa navigare, neanche il centro per l'impiego, che dovrebbe essere il tutore di queste cose, propone solamente, ma non c'è nessuno che lo fa. Anche perché noi abbiamo creato pure nel nostro paese il centro polifunzionale delle associazioni, io come presidente della mia associazione, e dico che l'hanno creato a fare, è una zona morta, nessuno si interessa di niente. Perché non lanciamo un messaggio a chi, a qualche azienda che magari potrebbe interessare? Qual era il profilo che lei mi diceva? È un perito meccanico esperto in robotica e informatica, però naturalmente se lo fanno partecipare a un concorso, il ragazzo non ci va, perché un po' con la vergogna personale, che non esiste, non dovrebbe, però purtroppo è insita in lui, e quindi ahimè, 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 dovremmo accompagnarlo in questo viaggio, in questo nuovo processo di inserimento lavorativo e sociale. L'ultima battuta a lei. Io volevo dire una cosa, ieri è stata la giornata nazionale per la disabilità, io quando pubblico ho dei profili o delle pagine, sicuramente è un bene ricordare questa giornata, ma quello che propongo quando vado a fare le promozioni è quello e quell'altro, che noi non dobbiamo avere paura della disabilità, non dobbiamo pensarla solo per quella giornata, o per l'evento, o per quello o per quell'altro. Dobbiamo accogliere, dobbiamo essere inclusivi. Questo succede un po' con tutte le cose. Però dobbiamo fare, dobbiamo fare più eventi possibili, dobbiamo fare più promozioni possibili, parlare degli argomenti e cercare di avvicinare le persone a questo. Noi il nostro piccolo stasera siamo qui per questo. E noi vi ringraziamo per questo invito. Se non avete altro da aggiungere, mi fanno cenno dalla regia che il tempo è finito, quindi la nostra trasmissione termina qui, grazie ai nostri ospiti, alla regia, e a voi che ci avete seguiti da casa. Sigla!